Quando parliamo di incontri karmici c'è spesso molta confusione, infatti in realtà tutti gli incontri sono karmici, potremmo dire che tutto ciò che ci capita nella nostra vita è frutto del karma, di questa legge di attrazione universale, che è fatta da due condizioni, è fatta dal karma in senso stretto, cioè le azioni che noi facciamo, che creano le cause per gli eventi che ci capitano e le condizioni. Le condizioni sono ciò che fanno maturare le cause, potremmo dire che il passato è costituito da tutti gli eventi, da tutte le cause che hanno già avuto delle condizioni per maturare, il presente sono le cause che stanno avendo delle condizioni e quindi stanno maturando e il futuro è costituito da cause che non hanno ancora avuto le condizioni per maturare. Le cause le creiamo noi, ogni azione che facciamo in realtà è una causa e una condizione per far maturare qualche cosa. Faccio un esempio, anche un'azione fatta con amore può crearmi le condizioni per farmi capitare qualcosa di negativo, cioè per far maturare delle cause che ho generato in passato, ad esempio io vedo una persona che sta male in strada con un atto d'amore scendo per salvarla e una macchina mi prende e mi travolge. Io ho fatto un atto d'amore, ho creato quindi con questo atto d'amore delle cause che si manifesteranno in futuro, quando capiteranno le condizioni, ma questa mia intenzione ha fatto nascere comunque, ha fatto maturare delle cause negative del passato, per cui l'effetto che ho ricevuto è un effetto negativo alla conseguenza, ma però maturerò successivamente delle cause, degli eventi positivi, in un'altra vita ovviamente. E questo vale anche nelle nostre relazioni, ogni incontro che facciamo è un incontro karmico, ciò che unisce le persone sono proprio l'intenzione, l'intenzione è il sentimento che noi manifestiamo, il karma può essere un karma positivo quando ciò che lega è l'amore, quindi l'incontro è un incontro d'amore. Se invece l'intenzione è negativa, c'è odio, il karma, l'incontro karmico che mi legherà con quella persona sarà l'odio, il risentimento, il rancore, e poi ci sono fatti neutri, dove non c'è né avversione né attrazione, se vogliamo, quindi neutro. Ma ogni evento che ci capita è frutto delle nostre azioni da un tempo immemorabile, in questa ruota karmica che gira. Quindi teniamo presente che se noi vogliamo liberarci, tra virgolette, di una persona, non dobbiamo manifestare né amore né odio, perché se no questo amore e odio sono ciò che a livello karmico lega maggiormente, anzi la rabbia e il rancore del sentimento è quello che ci lega ancora di più. Quindi ogni volta che noi facciamo un gesto rabbioso verso qualcuno, andremo poi a sperimentare questa rabbia nel momento in cui si manifesterà le condizioni che possono essere in questa vita o in un'altra. Ovviamente siccome non siamo dei Buddha e siccome la vita in senso generale non ha avuto inizio, i tempi sono immemorabili, potremmo dire un passato infinito, avremo maturato sicuramente cause di tutti i tipi. Ora noi dobbiamo, per evitare che maturino queste cause negative, avere comunque delle intenzioni positive, una predisposizione mentale positiva, in modo tale da cercare per quanto è possibile di tranciare i ponti delle cause negative, in modo tale che non si possano più manifestare. Se noi abbiamo, e quello che un Buddha riesce ad avere, una comprensione totale della legge del karma, possiamo mettere in atto solo azioni che facciano maturare cause positive che in qualche punto dello spazio-tempo abbiamo generato. Quindi il nostro libero abito sta nel far maturare le condizioni, il vero libero abito sta nel avere la completa conoscenza della conseguenza di ogni azione che noi andiamo a fare. Questa è la prerogativa di un Buddha, se vogliamo, una completa conoscenza della legge del karma. Ma ogni incontro che noi facciamo è karmico e quando gli incontri sono molto intensi significa che ci sono state delle cause, delle cause che ci hanno legato con questa entità, con questa persona. Cause spinte dall'amore o spinte dall'odio, dall'attrazione o dall'avversione. Questo è ciò che lega le persone e ciò che ci capita nella vita è frutto veramente della nostra intenzione. Il libero abito sta proprio in questo. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog www.seduzionand.com. Ciao a tutti.